Ma buon salve e benvenuti in questo nuovo video, si parla di The Last of Us, la nuova serie tv targata HBO tratta dall'omonimo videogioco, oggi tocca alla sesta puntata. Come al solito si faranno spoiler come se piovesse nei riguardi dell'episodio corrente, si parlerà anche delle differenze con il gioco, senza però mai fare anticipazioni sul futuro. Quindi se non avete giocato il gioco potete stare tranquilli, anche se a fine video qualcosina spoiler ne riguardi addirittura del secondo gioco di The Last of Us vorrei farla, ma comunque appunto lo facciamo a fine video, vi avviserò prima, quindi quella parte la potete tranquillamente schippare. Ma in questa puntata ci sono tanti di quei riferimenti al secondo videogame che ne ho proprio bisogno di parlarne. Ma prima di iniziare vi ricordo come al solito la mia collaborazione con Pampling che questa settimana offre una nuova promozione, due felpe a 30 euro. Quindi vi lascio il link al catalogo di Pampling sotto in descrizione in più. Vi ricordo che se aggiungete in fase d'acquisto un paio di calze a vostra scelta con il codice Fabio10, le calze non le pagate. Quindi vi beccate con 30 euro due felpe e un paio di calze. Ora, detto questo, possiamo iniziare. E porca miseria che puntata bella cicciotta, 56 minuti di puro godimento e anche di strazio, di distruzione emotiva, proprio perché gli eventi raccontati in questa puntata sono abbastanza importanti e un vero e proprio pugno nello stomaco. Da cosa mi piacerebbe partire? La struttura narrativa del videogioco di The Last of Us è molto particolare. La storia di The Last of Us è suddivisa a stagioni, ovviamente nel gioco, autunno, inverno, primavera, estate. Stagioni che ovviamente vanno a rappresentare il legame, la relazione, il rapporto tra Ellie e Joel e anche tutte le varie difficoltà che i due personaggi andranno ad incontrare. Nella serie, per questioni di suddivisione in episodi, per questione di, non lo so, semplicemente scelta artistica o anche per questioni di tempisti che non hanno fatto questa suddivisione, mi ha fatto però molto piacere, tra mille virgolette, rivedere la morte di Henry e Sam, perché è proprio una riproposizione pedisse qua di quello che vediamo nel gioco. La morte di Henry e Sam funge proprio da preludio per l'inizio della stagione autunnale. Qui siamo in inverno, sti cazzi, ma comunque bene o male il significato è lo stesso. Rivediamo la morte di Henry e Sam, stacco nero, e poi tre mesi dopo. Rivedere quella scena serve proprio a darti la giusta gravita, se motive ti fa capire quanto comunque Ellie e Joel siano rimasti fortemente provati da quegli eventi. La scena con i due anziani nella casettina tutta innevata mi è piaciuta tanto, si tratta di una scena inedita che mostra una Ellie sempre più entusiasta e pronta ad arrivare a destinazione, mentre un Joel decisamente che cerca di restare sulle sue e lo vediamo per la prima volta avere un attacco di panico. Adesso sulla fragilità di Joel ci arriviamo tra pochissimo, ma posso dirvi che quella scena mi ha convinto tantissimo. Facciamo la conoscenza della comunità di Jackson e anche di Tommy e Maria. Tommy è ovviamente il fratello di Joel, interpretato da Diego Luna, e Maria, che sarebbe sua moglie. Qui c'è stato un cambio di etnia, sti cazzi, però mi ha fatto un sacco ridere che in una scena vediamo appunto la comunità di Jackson, vediamo questa gigantesca recinzione con delle persone armate che fanno appunto da guardia per questa cittadina, e una delle persone che fa la guardia appunto ai cancelli di Jackson è identica, spiccicata alla controparte videoludica di Maria, infatti ero convinto che fosse quella, Maria, ho detto cacchio, ma l'hanno scelta proprio uguale, invece no, era un'altra attrice di un'etnia diversa, sti cazzi, mi ha fatto molto ridere che avessero a disposizione un'attrice identica e abbiano scelto un'altra, però sti cavole. Maria è senza dubbio un personaggio secondario, ma interessante, ci viene spiegato che prima dell'apocalisse fosse una poliziotta, o comunque qualcosa di molto simile, ci viene anche spiegato che ha perso un figlio e quindi il parallelismo con Joel è abbastanza chiaro, è anche il modo di rispondere al lutto, per quanto comunque non ci venga spiegato le circostanze della morte del figlio di Maria, credo che si chiami Kevin, se ricordo bene. Altra cosa che nel gioco è totalmente inedita, ma mi è piaciuta come aggiunta, esattamente come mi è piaciuto vedere questo appunto dialogo tra Ellie e Maria, in cui appunto Ellie viene a conoscenza di Sarah, quindi del fatto che Joel abbia perso una figlia, e qui Ellie effettivamente incomincia a capire un po' di cose, incomincia a capire il comportamento abbastanza particolare di Joel, il perché si continui a chiudere a Riccio. Il rapporto tra Joel e Tommy mi è piaciuto tantissimo, Diego Luna è abbastanza convincente come Tommy, il rapporto appunto tra Joel e suo fratello è aspro e amorevole al punto giusto, e mi è piaciuto questo piccolo scorcio sulla comunità di Jackson. Ancora una volta nella serie di The Last of Us cercano di farti capire in tutti i modi che è possibile vivere in pace anche dopo l'apocalisse. L'avevano fatto Bill e Frank, lo stanno facendo qui a Jackson, ma la maggior parte delle persone, per qualsiasi tipo di motivo, decide invece di abbracciare il suo lato più animalesco, il suo lato più oscuro, cosa che avevano fatto Joel e Tommy e anche Tess in passato, nel loro passato da cacciatori dove appunto andavano in giro ad ammazzare innocenti e a depredarli appunto per sopravvivere. In un dialogo molto interessante tra Joel e Tommy, Tommy dice proprio questo, sì, noi abbiamo imboccato l'unica via che conoscevamo, quella della violenza, ma non è l'unica via esistente, ne ho trovato un'altra adesso grazie alla comunità di Jackson, e quindi voglio vivere in pace. Il che crea non pochi contrasti tra i due fratelli, per di più Maria è incinta, altra cosa inedita rispetto al videogioco, vediamo come svilupperanno questa storyline, se avranno intenzione di svilupparla in futuro, non dico altro per evitare spoiler di qualsiasi tipo, arriviamo a il personaggio di questa puntata, il nostro caro Joel, che qui vediamo più fragile e acciaccato che mai. Ne avevamo già parlato nei precedenti video di quanto fossi stupito nel vedere questa versione di Joel, molto più acciaccata, addirittura sorda da un orecchio, fa fatica, comunque riesce a combattere con i vari cacciatori, però comunque fa fatica a prevalere in maniera prorompente nel combattimento corpo a corpo, vediamo che ha continui incubi, ha degli attacchi di panico, addirittura si addormenta durante il suo turno di guardia ed è Ellie che lo sostituisce, insomma un Joel che è decisamente diverso dalla sua controparte videoludica e molto più umano, e ho finalmente capito il perché. Dovevano arrivare a quest'episodio, che è cruciale per il personaggio per tante ragioni, prima di tutto l'episodio in cui appunto Joel per la prima volta butta giù sta cavolo di barriere e si sfoga con suo fratello, dice che praticamente ha questi continui incubi in cui delude sua figlia, la delude anche nei suoi sogni, per di più è invecchiato, ha perso colpi, in una circostanza è stata Ellie a salvarle la vita, e diciamo che questa cosa è anche utilizzata come scusa da parte di Joel, proprio per sbolognare Ellie a Tommy, del tipo io non ce la faccio più a sostenere questo viaggio, occupatene tu che invece sei giovane e forte, però è anche comunque vero, e lo notiamo nell'ultima fase dell'episodio dove appunto Joel resta gravemente ferito. Nel gioco la circostanza dell'incidente è leggermente diversa, c'è appunto una colluttazione con un cacciatore, e Joel si fa tipo un volo di quattro piani e resta infilzato da un pezzo di ferro, però il significato non cambia. Joel ha perso colpi, ha abbassato la guardia, e il fato ha voluto che rimanesse gravemente ferito, adesso toccherà ad Ellie occuparsi dei due. La scena di dialogo, di sfogo anzi tra Ellie e Joel, appunto Ellie sente Joel parlare con Tommy e appunto sente che Joel vuole liberarsi di lei, e i due si sfogano, e qui avviene il momento forse più importante nel rapporto tra Ellie e Joel, il momento in cui Joel dice tu non sei mia figlia e quanto è vero Dio io non sono tuo padre, ma è chiaro che questo sia l'ennesimo tentativo di creare una barriera tra i due, ma Joel non crede a queste parole, certo Ellie ovviamente non è Sara, ma cavolo se gliela ricorda, e lo si nota perfettamente nelle scene distensive tra questi due personaggi, che Joel si trova proprio bene con Ellie, non lo vuole ammettere, ma si trova benissimo con lei, quando lei cerca di imparare a fischiettare, quando fa le battute del cazzo, quando Joel insegna ad Ellie le regole del football, credo che sia del football, ormai il bonding, il legame tra questi due personaggi è fatto, e infatti Joel cambia idea, in maniera forse abbastanza repentina rispetto al gioco, ma lì c'è molto più tempo, anche perché nel gioco Ellie scopre che Joel vuole lasciarla a Tommy, quindi scappa via da Jackson rubando un cavallo, Tommy e Joel la vanno a ripescare, lì avviene quel bellissimo dialogo, per di più, mamma mia, ovviamente lì è proprio preso di pacco dal videogame, però quel dialogo in cui Ellie è convinta di riuscire a capire come Joel si senta, del tipo anch'io ho perso qualcuno, ma Joel le dice, tu non hai la minima idea di cosa significhi perdere qualcuno, perché un conto è una ragazzina che non ha mai conosciuto i genitori, ha avuto sì degli amici, ma che comunque ha perso subito, vedi per esempio Harry e Sam o anche Tess, quanto sono stati Ellie e Tess insieme, un giorno, due giorni, veramente pochissimi, un conto invece un padre che dall'oggi al domani vede sua figlia venire uccisa completamente a caso, per di più nel bel mezzo di un'apocalisse zombie o di infetti, manco è stata morsa Sara da un infetto, è stata uccisa da un soldato, quindi stiamo parlando proprio di due mondi completamente distinti, ma tant'è per di più nel gioco i tre, quindi Tommy, Ellie e Joel si ritrovano a fronteggiare un gruppo di cacciatori e poi lì avviene il cambio d'idea di Joel, qui avviene tutto in maniera decisamente più veloce, ma va benissimo così anche perché determinate scene inedite, tipo il momento in cui Joel guarda tra la folla e vede sua figlia o quella che crede essere sua figlia vede Sara, mi fa perdonare qualsiasi tipo di minuzia, che appunto veramente si tratta di piccole piccole criticità. La parte finale dell'episodio è decisiva, i due sono arrivati finalmente all'Università del Colorado, quindi la base delle luci, ma le luci sono scomparse, si sono trasferite in un'altra base, Joel è rimasto gravemente ferito e adesso Ellie dovrà occuparsi di entrambi. Hanno avuto l'accortezza però di farti vedere che comunque Ellie è abbastanza schillata, la vediamo fare il turno di guardia, sostituire Joel mentre sta dormendo durante il turno di guardia, la vediamo anche mentre si allena ad utilizzare il fucile, quindi ne vedremo delle belle veramente nelle prossime puntate, prossima puntata che si chiama Left Behind, chissà sa però vi preannuncio che Left Behind è il titolo del DLC di The Last of Us, quindi ne vedremo veramente di robe interessanti nella prossima puntata. Come al solito le musiche di Gustavo Santaolalla mi distruggono come non mai nella sequenza in cui Joel e Ellie viaggiano a cavallo, sentiamo la musica del finale del gioco di The Last of Us, proprio la musica dei titoli di coda di The Last of Us e in più sul finale di questa puntata sentiamo un'altra volta Never Let Me Down Again dei Depeche Mode, la canzone della primissima puntata di The Last of Us, questa volta però non è cantata da Depeche Mode, bensì una cover di Jessica Mason, la figlia di Craig Mason, il regista e diciamo co-creatore della serie insieme a Neil Druckmann, molto ma molto carina questa cosa, per di più è appunto Never Let Me Down Again, una canzone anni 80 che nel linguaggio di The Last of Us significa guai, chi vuole capire capisca. Quindi questo era tutto quello che volevo dirvi senza spoiler, adesso capirete perché, nei riguardi della sesta puntata di The Last of Us, adesso fatemi sapere la vostra, se vi va ovviamente, fatemi sapere qua sotto con un commento se questo sesto episodio vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, sono veramente curioso, vi lascio questi ultimi due, tre minuti a chi ha già giocato i due videogiochi di The Last of Us perché succedono delle cose in questa puntata che non posso non citare ma che sarebbero spoiler per chi non ha giocato i videogame. Quindi, se non avete giocato, ci salutiamo qui, ci sentiamo settimana prossima con la settima puntata. Per tutti gli altri, gli spoiler di The Last of Us parte 2 partono tra 3, 2, 1. Questa puntata è piena di citazioni piccole e grandi al secondo gioco che mi hanno fatto veramente commuovere. In una sequenza di dialogo sentiamo Ellie chiedere a Joel cosa farebbe dopo appunto in un mondo ideale in cui appunto i due riusciranno a compiere la missione e quindi arrivare dalle luci e Joel dice mi piacerebbe avere una fattoria con e allevare delle pecore perché sono tanto carine, ubbidienti, non rompono le palle. Nel secondo gioco Ellie va a stare con Dina due anni dopo gli eventi appunto tutta la lotta con Abby e prende proprio una fattoria con un allevamento di pecore quindi insomma ci fanno capire che è per questo che Ellie e Dina sono andati a vivere lì perché era il sogno di Joel. Ecco, mentre lo dico mi sta venendo da piangere sempre parlando appunto di The Last of Us parte 2 facciamo la conoscenza appunto della comunità di Jackson e vediamo Shimmer, il cavallo di Ellie nel secondo gioco vediamo anche questa stanza, questa mensa all'interno della cittadina di Jackson e se notate le luci che sono appunto attorno a questa mensa sono tipo delle lucine di Natale che ricordano palesemente la stanza in cui avviene la festa di The Last of Us e sempre nella scena della mensa vediamo Ellie mangiare e una ragazzina che è di soppiatto la spia ovviamente Ellie se ne accorge e un po' la manda al diavolo io mi scommetto tutto quello che volete che quella ragazza è Dina mi ci scommetto veramente la palla destra che quella ragazza è Dina e quando l'ho vista i feels sono veramente saliti a livello estetico ci azzecca veramente poco con la Dina del videogame ma sti cavoli sta ragazzina sembra tipo indiana mentre Dina nel gioco dovrebbe essere ebrea però se vedete Maria in questa puntata che cacchio c'entra con quella del gioco quindi potrebbero tranquillamente fare un cambio di etnia e me ne fregherebbe meno di zero non è quello il punto del personaggio per me è palese ma appunto voglio sapere la vostra quindi come al solito fatevi sapere qua sotto con un commentino cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima e in generale ci vediamo quando ci vediamo ciao a tutti ragazzi